Fortunatamente il medico di base conosceva la sindrome della stanchezza cronica perché non è per niente facile trovare un medico che la conosca. Elsa ha 19 anni e vive a Carbonera. Nel 2016 è stata diagnosticata la sindrome della stanchezza cronica. Tutto è degenerato durante gli anni delle medie, da quella che si pensava essere una semplice mononucleosi. Una patologia ancora poco riconosciuta, quella di Elsa, per la quale non esiste una vera e propria cura, ma che la limita fisicamente e a livello di apprendimento e concentrazione. Una mostra fotografica, quella che le ha permesso di sostenere la seconda prova del suo esame di maturità. L'idea è nata dal professore di storia dell'arte che si è offerto in prima persona ad indirizzarla con un corso base di fotografia. Abbiamo scoperto veramente un artista e quindi spero che su questa strada continui, prosegua perché i risultati che si vedono sono risultati sicuramente molto positivi. 20 gli scatti esposti in bianco e nero all'entrata dell'Istituto Besta di Treviso, che rappresentano soggetti particolari basati sul concetto di sublime. L'esame di maturità svolto da Elsa non le consegnerà un vero e proprio diploma, ma dopo l'orale, nel quale parlerà della sua mostra, le verrà riconosciuto un attestato. Mi piace, mi diverto a fare fotografie e quindi nulla costa anche esporle e farle vedere se piacciono. Elsa ha intenzione di continuare a coltivare la passione per la fotografia e di non arrendersi davanti alla sua malattia. Parla del suo futuro con un sorriso sul volto e con le idee chiare sui progetti ai quali si dedicherà dopo l'estate. Trovare un altro posto dove scorrere per un altro pallamostra, quello è un punto. E poi avrò un paio di cose di grafica da fare, magari per fare i denti. Grazie.